Un saluto ben ritrovati come state, location un po' diversa oggi, sono fermo ovviamente, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi al nostro canale in questa zona, attivate la campanella e lasciate un bel like. Commentiamo il mercato Milan che vede un blitz nelle ultime ore di Furlani a D con anche manovre di mercato tra le sue competenze, almeno tra quelle segnalate, che si è recato a Londra per chiudere l'affare, l'off-to-cheek, che non è in dubbio, ma cercare di tornare anche con l'ok per Pulisic. Esterno, americano, ma con un supporto croato, che ha già dato la propria disponibilità al Milan, disposto anche a ridursi un po' l'ingaggio e a spalmarlo negli anni, visto che avrà soltanto un altro anno di contratto con il Chelsea. Ebbene, la situazione è che si tratta. Il Chelsea era partito da 25, è disposto a scendere un po', il Milan era partito da 10-15, potrebbe salire un po'. Si cercherà di trovare la quadra per questo obiettivo che piace molto a Stefano Pioli e che, insomma, si sposterà con ogni probabilità a quest'estate, direi anche sicuramente, vista la scadenza prossima. C'è stato anche un abboccamento del Leone, ma in questo momento Pulisic vuole il Milan, il Milan vuole Pulisic e il Chelsea vuole cedere Pulisic. Quindi, tutti gli incastri ci sono, tranne che il prezzo, che poi è la cosa fondamentale. Però Furlani sta cercando di, diciamo così, combinare le due operazioni e avere un prezzo alla fine favorevole. Ricordiamo, intorno ai 20 bonus compresi l'operazione legata all'off-to-cheek. Il Milan vorrebbe fare una quindicina per Massimo, per Pulisic. Quindi, bisogna trattare Furlani in prima persona, proprio per cercare di smuovere un po' le acque e di arrivare alla chiusura. Ditemi cosa ne pensate di questa coppia, l'off-to-cheek più Pulisic, che ha buone chance di vestire la maglia rossonera, sicuramente l'off-to-cheek. Vi invito a commentare numerosi, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mi raccomando, lasciate un bel like qui sotto. A presto per altri aggiornamenti, l'iscrizione la potete fare da queste parti. Attivate anche la campanella, ovviamente è gratuito, non perdete il grande calcio mercato di quest'estate, che speriamo possa essere con tante sorprese, belle, ovviamente. Un saluto.